Ciao a tutti ragazzi, io sono Beth e oggi siamo qui con tutti i nostri amici per, appunto, oddio, entrare nel labirinto del fauno. Ok, chiamato a Minotauro, comunque. Il del Minotauro, sì. Oh, coniglio! C'è l'entrata da qua sotto, che mi pare la cosa più intelligente. Ragazzi, per chi non l'ha notato, comunque, dovremmo dire una cosa. Per chi non l'ha notato, siamo nella Twilight Forest. Esattamente. Ah, e questi episodi saranno solo sul canale di Shackitano e Danni, per cui non voglio vedere. Gli altri, gli altri episodi... Gli state guardando, aspetta. Gli state guardando. Gli altri episodi. Gli altri, gli altri episodi... Sono nei canali di Sirmoser e Beth, in cui esploriamo la torre. Perché però che la situazione era lunghissima, sinceramente, quindi non abbiamo caricato. Ok, attenzione, perché c'è... Ti fa un ragno slime che tiene il tempo con la testa. Un ragno slime che tiene il tempo con la testa. Che cazzo... Ok, io mi tuffo. Buona fortuna. Ma tutto lo vuoi permettere. Da non mangiare non keeping. Ah, ragazzi, avete il mio arco, avete il mio arco. No, 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 no. Io non arco. Ok, potete scendere relativamente sicuro. Ok, almeno questo. Oddio, c'è tipo uno scorpione slimoso. Ora che torce ne vede, ragazzi. Quando vedete una cesta, state attentissimi perché... Occhio, 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 occhio. Cos'è che c'era? Ecco, lo sapevo. Io c'era dentro del ferro. Sermon, se andiamo insieme? Occhio, ragazzi, occhio alle ceste. Occhio alle ceste. Allora, sciaggine con me. E' un'altra, l'hai ucciso. Goldene Apple... Cesta. Occhio, fai fare a me, ti prego, che c'ho l'armatura. Vai. Oh, due minuti. C'era una goldene Apple. E me ne vado. Andiamo, andiamo a cercare di qua, va. Tieni, ti la goldene Apple. No, tra, 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 tra. Oh, dove sei, Tanni? Di qua, qua. Vai. Ecco, occhio, 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 occhio. Ok, i troppi. Allora, di qua. Proviamo a scena migliore. Aspetta, prendiamo a te torce, prendiamo. Non ne abbiamo, non ne abbiamo tante. No, io proprio non ne ho. Dovete sapere che mi hanno ucciso con una gravity gun. Ah, mi chiedo chi c'è stato, c'è chitano. Con l'unico che c'era in mano è... Bet, bet. Bet, bet. Ma, sono io. Allora, fatti qua, di qua, di qua. Di qua. Ironwood, ok, ma di qua ci sono loro, c'è, ci smizziamo tutto. Aspetta che, vedo che, non ho... Dov'è che so? Ok, ok, ho preso giusto quattro frecce. Siamo tornati qua. Vai, di qui non c'è nulla. Ok, andiamo di qua. Dove che sei? Eh, sono... Ecco, ok, andiamo di là, andiamo di là. Aspetta che non ho più. Eh, hai giibo, hai giibo, perché dopo lo chiamano, c'è. Ah, ma è per la mappa del labirinto. Ah, ma sei tu di qua? No, no. Ah, occhio, occhio, che mi caricano, eh. Mi caricano. Sì, lo so, mi ricordo. Eh, comunque, cebo, te sei avanti, io sono... Boh, non so, non ti vedo. Ho fatto un po' del labirinto. Oddio. Mi ha fatto un po' del labirinto. Ah, eccoci. È tipo una scorpioness parafiche. Un ciclo. Venite di qua, io, oddio. Io ho fatto un po' del labirinto, ragazzi, ho fatto un po' del labirinto, ragazzi. Ho fatto un po' del labirinto, ragazzi, ho fatto un po' del fuoco. Ah, davvero? Ottimo. Oddio, ragazzi, diciamo che... Ok, seguite. Guidaci tu, guidaci tu. Eh, dove sei? Aspetta. Poghiamo in sciocchi. Dobbiamo andare... Ok. Sì, va il senso, il labirinto. Ragazzi? Ragazzi, io sono uno di quelli che lagga spesso, quindi... Ragazzi, ho fatto... Ragazzi, è morto... Eh, sei morto... Eh, sei morto... Eppure sul server ci sono ancora, quindi... No, no, sei morto con... su TS. Lo so, infatti... Infatti su TS non vi sentivo, però... Ok, ok. Sto... Rasciando... Eh, aspetta... Quanti slime, oltre a livello inferiore... Oh, Cristo. Beh, aspetta... Oh, oh, sono caduto. Ah, oh, 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 oh. Oddio. Orca vacca. Oh, bella. Attento. Oddio, quante cazzo ce ne sono? Sto arrivando a Zivro. Ma una gira. Ok. Oh, chi è stato? Oh, Beth. Cosa? Occhio, gente. Oh, qua ci sono dei funghi. Nei tipo che scendiamo in modo brutto. tuttavia e anche ora è una cesta ti amiamo figli raga un minuto aiuto orca pari non ho un piccone qualcuno di voi è un piccone ragazzo lo sponera aiutatemi 6 sono città di riuscire una cosa qua 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 ci sono di fatto ok non ho distrutto però è pieno di gente cagliere 6 e per se ricordino ma che gli endermen è te la dnt sti leafpeak bello oh ci sono gli sti leaflag e una pozione di stall test endermano non uccidiamolo qui c'è una barricata in una stanza aperta proviamo sento puzza di boss barra trappola andiamo a dimolarmi oddio venite qui oh è il micelium mamma prendete i funghi bella bella vi vedo vi vedo beh aspetta ci sono dietro wow ma non vale è un cittone allora qua c'è la lava ma perchè la rigenerazione raga ma se il micelium viene preso no diventa terra normale vero ah perchè ho preso la golden apple si è vero oh ragazzi qua c'è un dungeon 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 oh ma c'è ferro oh ma c'è un glitch taomiumingot qualcuno se qualcuno a me garbano a me garbano no aspetta se serve qualcuno eh eh infatti a me i taomiumingot se ci sono Ah, c'è un disco musicale, il mio Ah, ecco, ce li ho qua io, i Tamio Mingot Dopo te li do Ok, ok Noi direi Oh, ma secondo me, dietro sta cascata c'è qualcosa Dov'è la cascata? Sicuramente, io Oh, qualcuno ha dei blocchi da piazzare Ah, Minotauro, 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 Minotauro Non sono una bella fiumfina così tanto forti, eh Minotauri Dove sei? Ma i Minotauri fanno strapaura, anche voi Ma inizia a distruggere Vai, beh, spacca Hulk, spacca No, non c'è niente Eh, aspetta, non eri su Ah, no, ehi, 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 ehi Ouch Ok, io sto rushando in mezzo all'abirino C'è qualcosa qua Aspetta Oh, oh, Dani, spacca tu che c'è l'ascia C'è la bedrock LoL Io sto correndo come un pazzo Non mi sa che Speranze Ho trovato una zona con tante casse Aiuto Bella, arriviamo, arriviamo, arriviamo C'è la barricata, aiuto C'è una mucca C'è una mucca lilla La mucca lilla C'è una mucca centauro Scommetto che quella lì Il mio ragazzo chiama Aiuto, aiuto, aiuto È nel mushroom È nel mushroom Aiuto, c'è una mucca centauro Aspetta, sto arrivando, sto arrivando No, scherzo, non sto arrivando Eh, ora sto arrivando Ah, mia droplascia Sì, che ascia aveva di davanti È un ascia speciale Sì, lascia il minotauro Minotauro axe, infatti Ma era spessa e stavo morendo proprio tanto anche Qui ci sono un sacco di steel leaf plate Io Cento Raga, oi, oi Bet, bet Avecci il steel motor Il steel motor, vieni qua Che dovresti avere un piccone Oh, fa più, fa più, fa più, fa più, fa più Dai, sharpness 4, dai All'inizio Io dove porta Sì, ragazzi Io ho così lì sotto la mia La mia sharpness 4 Niente C'è niente qua Oh, bella Solo funghi, non c'è niente Sì Io ho trovato un'altra stanza con le ceste Andiamo di qua Allora All'inizio 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 Io ho trovato un botto di iron food Però era E l'avevo già trovata questa qui Ancora altra ceste Certamente Io voglio provare un po' questo steel leaf peak Sembra epico Eh, boh, non lo so Però adesso vediamo un attimo qui Ah, qua ci sono Le josh Ah, che è questa Io mi metto in versione twilight Non so se mi vale la pena Credo proprio Iron wood plate Vediamo com'è Ok, finalmente ho trovato un piccone Io potrei farmi l'armor completa in... Steel leaf peak com'è che è? Non, non male Io sto usando la Minotaur Axe adesso Eh, pure il steel leaf peak Qualcuno può spostare il... Ah, tieni, tieni Prendetelo, ce l'ho, ce l'ho Ah, che posso Il pavimento Prendetelo Cosa? Prendetelo qua sotto Credo Io provo Credo che ci sia qualcosa C'è la bedrock C'è che abbiamo conquistato il boss Era quello lì che mi sono fatto Era qui, infatti Ma no, che brutto, dai Non puoi avercela fatta da sola Era una bestia quel coso Voi non avete idea Eh, ma magari non è... Forse non è che c'è proprio la vita C'è un boss con la vita e tutto No, no, non ha la vita Era un mini boss, tipo Vuoi provo a correre ancora un po' in giro per il livello Eh, sì, anch'io Orca patata Qua è pieno Tanto c'ho la corsa straveloce Ragazzi, aiutatemi Raga, qualcuno ha bisogno di un'armatura? No, no, io c'ho tutto Ahia Orca puttana Occhio, occhio, scappa, scappa, edo Ok, meglio la steel leaf Scattata la trappola che ci ha aperto nuove strade Ho sentito No, abitono, è un'altra strada Raga, qua sotto, però Che cazzo? No, no, scherzavo No, ok, niente Qua ci siamo già andati Sì, e ci sono passati 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 Sì, ho tre cuori Non so perché Raga, ma mi è un mio amico Ho trovato la cosa La gravity chest Sì, quindi Vedere di esplorare La gravity chest Sì, sì Ma come cazzo fa Trovarla su? Non ho senso, scusami Perché nella Twilight Dove esserci No, no, no Ho trovato Ho trovato una stanza con le chest Ho trovato Ho trovato Ho trovato una stanza con le chest Sì, vedete il mio nome E seguitemi Eh, non lo vedo il tuo nome Bella, sì, sì, ci sono Eh, io non lo vedo il tuo nome È un'orgia, è un'orgia, è un'orgia Oddio Oddio Io so se quando ad essere mossa C'era qualcosa di bello Aiuto Io sto scappando con me Ma dove siete? Infatti Bella, io Niente Io penso di aver trovato una nuova strada Non vi vedo Dove siete? Io, ah no, si sono tornati in cima Come? No, che spatta Aspetta un attimo, vediamo Siamo tornati su No, si sono tornati al principio non scesi Eh, cerchiamo un attimo di Allora, allora Allora Occhio Infatti C'era una presenza No, 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 sono i tripwire Ah, che sottoni Eh, però Mi servirebbero delle torce A parte che non è Non sto registrando Ho trovato un minuto Saurino E una nuova chest Solo che sono abbastanza impegnato Con degli slime Aspetta, aspetta Si riesce ad arrivare da me Che è questo? Sì, adesso ci sono, ci sono Vai, provo ad aprire Ah, no, ok, vi vedo Vi vedo tutti Ok, ok, ok No, sono tornato puntata Vi ho trovato, ragazzi Un po' di torce Boom Fermi un attimo che prendo un po' di torce Prendi un attimo che prendo un po' di torce Prendi un attimo di qua? Ci sono, ragazzi Minotauro Aiuto Fapp, no, dai, non mi troppa nulla Oh, bella, di qua c'è qualcosa Fermi un attimo, dai, aspettatemi Oh, bella, del call Del call Golden Apple Raga Ok, qua non c'è più niente dall'altro lato Bisogna tornare indietro No, tra, adesso proviamo un attimo Aspetta Ok, ci sono Ok, io vado ancora per termini E farmi uccidere E poi farmi vivere da voi Complizzo con questo, scusami Ma, vabbè, adesso dovrebbero Allora, non mi dà nessuna cosa Ok, questi minutauri sono odiosi Sì Ah, è vero, lo vedo altri cuori Ah, ma se lo disattivi si attiva la bomba Eh, sì Quindi non può cacci nulla E' praticamente E' un po' sotto la Oh Beh Figa Proviamo ad andar giù Oii Dov'è che è? C'è Redstone Ah, sì, ma questi qua Guarda che è il mondo normale Non lo fa Lo so, lo so Però bisogna dire Redstone Quindi prenderlo Ciao, c'è chi Oii E qua stai Vai, aspetta Crack e ha messo un brick Lol Ma sei troia? Ma no, ma cosa Vai su Che cazzo vuoi da me? Ok, aspetta Aspetta No, ho messo su No Che troia Guardalo Pezzo di merda Dai, sciacchi Eh? Che fame Guardali Ok, beh, ti direi che potremmo andarcene da chi? Bastardi Tornati indietro, fronti pezzi di merda Yeee, ciao Chi è che è rimasto sotto, Danny? Danny Dai, aiutiamolo, ragazzi Allora, allora Un attimo, Mario Aiutiamolo, non possiamo fare niente A parte che poi c'è un altro buco Eh, ma Sì, tanto non servono un cazzo alla fine Cioè, se non trovi Almeno che non troviamo Aiuto, aiuto, aiuto Eeeh Proviamo un attimo Non nel buco, non nel buco Non nel buco Oh, te che è la mappa, scusa Prova a cercare E a vedere, secondi, se troviamo qualcosa Cioè, se c'è qualcosa altro Eh, se lasci, potrei anche dirlo Ah, ma no, io non ti ho preso O forse sì Ehm Ammano la mia spada Lol Io sto parlando Se ti vediamo Ok Ah Sì Che cosa fai? Guarda, nonostante ti abbia Ma tu non hai più la gravi di canne in mano Dobbiamo risalire sopra Ma al punto che sopra di noi abbiamo la bedrock Lasciami, lasciami Ti provo a lanciare No, no, no Ok Oh, oh, 2 mila Tauri Ok Ci troviamo appena, troviamo qualcosa Ma dove cazzo? Ma dove cazzo? Ho messo per un momento Intanto che troviamo qualcosa Ahia la botta Non si trova una cip Palippa Don do cazzo state Io sto cipando di salire ma c'è la bedrock anche sopra E quindi dovremmo trovare il punto in cui si saliva Eh, qua, qua, qua Il punto in cui si sale è questo Però mi sa che c'è più che altro un punto dove si scende C'è uno, ci sono tipo 50 Bello Ah, ma oddio, è sta forte e sta venendo Taurax Cazzo Sì, sì, per attacco pure Eh sì È più forte della mia plasma cannon È tipo carico? Ah no, forse no Sì, è forte e uguale circa Oddio Sono già stati qua Sì, sì Ah, eccola qui da dove si è saliti Da dove? Sì, l'abbiamo già trovato io e Beth Dov'è che si è saliti? Eh, da qua Però Eh, Shaki Occhio Qua dove? Buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù Non è ucciso, non è ucciso Ah, qua, qua 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 Qui, qua, qua Oh, Beth, smettere questa gravigancia Sì, ma Eh, sto cercando di fare una scaletta siccome non ho blocchi La gravigan è fatta per rompere le palle, non c'è niente da fare Ma riesco a tipo a far così? E facendo così con una... Io sto schivando dei minotauri incazzati cercando di trovare qualcosa in sto livello, c'è della lava Mi lanci di della goblet Farite due cest Mmm, dove c'è stato? Ah, dell'altra cest piene Sono servute Questo raidanno tutto Sì, infatti, stronzi Oddio No, ho droppato pure la spada Vai, ti lancio giù, ti lancio giù Ti lancio su Eh, raga, ho trovato tipo 5 minotauri incazzati No, beh, Beth, mi fai male Ma, io mi fai male Morto Guarda che ti porto, ti lancio su Oh, canto lag Io te lo Direi che buona, ho acquistato lo Raga, io ho trovato un botto di minotauri comunque Quindi possiamo fugarcela fuori da dove si esce Come fate a uscire? Oh, mio Dio Bella, io sto salendo ragazzi Piano piano, buono buono No, ma tipo che io sto laggando a bestia Ok, yeah Vabbè, nulla di nuovo alla fine No, beh, è stato un bel Quello, un bel dancio Ah, eccoti Oh, c'è anche sorri Puoi uscire già da qui, eh Puoi uscire da qui No, dove Ragazzi, qui è pieno di fapper Oddio, minotauri Quindi niente Ah, ma con la minotaurax diventa ancora più veloce Mi sta Hola No, no, niente che cagata Quindi qui da sciogitane tutto Per questo video di Feed the Beast Con la Twilight Forest Abbiamo conquistato il L'abirito del minotauro Sono ricaduto dentro Oddio Voglio andarmene Eh, non ce la fai Non è possibile E Ok, niente Io me la prendo con le capri Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Ciao